C'è un amico che controlla se l'organico è perfetto perché con quello si produce il biogas. Grazie. A proposito, voglio dire che esiste un'app di Hera che si chiama Riffetologo e le spiega benissimo dove vanno conferiti tutti i materiali. Grazie, lo sapevo. Ok. Ma lei rimane lì? Sì, rimango qua. Arrivederci, grazie dell'informazione. Bene, la salute e buona giornata. Arrivederci. Grazie. Grazie.